Il primo Natale da assollati per diverse centinaia di cittadini di Casamicciola dopo l'alluvione del 26 di novembre, ma comunque già ci sono delle cose ben precise che la struttura commissariale ha già predisposto. Dottor Legnini, allora un Natale tutto particolare ma di buone speranze? Un Natale di grande sofferenza, di disagio per i cittadini, ma anche appunto di speranza. E' l'essenza del Natale, la speranza, la fase nuova che dobbiamo costruire in questi giorni, nelle prossime settimane. Ieri sera ho incontrato moltissimi cittadini che sono ospitati negli alberghi, ho potuto constatare il dolore, appunto la sofferenza, il disagio, la necessità, il bisogno di tornare nelle proprie case, ma soprattutto il bisogno di avere certezze, certezze sulla prospettiva, sul futuro, sulla sicurezza, sulla possibilità di proseguire in condizioni di vita e di lavoro accettabili i prossimi mesi nell'isola. Ecco, noi su questo dobbiamo lavorare, mi sento molto impegnato a restituire qualche certezza ai cittadini. Questo dobbiamo farlo su due versanti, uno con il provvedimento conclusivo che segue la trasmissione di questa nuova zonizzazione che ieri ci è stata inoltrata dal dottor Giulivo, due organizzando il piano degli interventi urgenti finalizzati a eliminare i rischi residui per far tornare il maggior numero possibile di persone nelle proprie case.